E alla fine arrivano i saluti, Nathan Nandez lascia il Cagliari e lo fa con un videomessaggio condiviso dai suoi account ufficiali, il centrocampista uruguaiano lascia la formazione sarda dopo 165 presenze, 6 gol e 6 assist dopo essere arrivato dal Boca Juniors nel 2019, Nandez non giocherà mai in Italia con altre maglie, il Cagliari sarà la sua unica squadra su suolo italiano, di seguito i saluti di Nandez, pensavo che non arrivasse questo momento questo giorno, faccio questo video per salutarvi a tutti e ringraziare, sono stati 5 anni, troppo belli, sono arrivato qua a Cagliari quando ero una ragazzino, oggi posso dire che sto andando via come uomo, un uomo uruguaiano ma anche un uomo sardo, è molto difficile fare questo saluto, voglio ringraziare e lascio un gran pezzo della mia vita, lascia un pezzo di cuore in questa città meravigliosa, non è un addio ma un arrivederci, ho mantenuto la parola che non giocherò contro il Cagliari, potete restare tranquilli, per me resta la mia unica squadra in Italia, un abbraccio grande, forza Cagliari, torneremo presto, grazie mille a tutti.